Tony accese e tante polemiche in consiglio comunale nella serata del 27 giugno alla fine tutto si è concluso con un nulla di fatto per quanto riguarda la vicenda delle due assistenti sociali a cui è stato affidato un incarico a titolo gratuito. Ospite d'eccessione Giuseppe Craceffa, presidente regionale dell'ordine degli assistenti sociali, ha messo a parlare in consiglio comunale dal voto unanime di tutti i consiglieri. Sostanzialmente il dibattito è iniziato con l'esposizione delle ragioni da parte degli esponenti della minoranza che chiedevano un atto di indirizzo per il ritiro in autotutela della determina sindacale con la quale il primo cittadino affidava un incarico a titolo gratuito a due assistenti sociali sollevando anche un problema costituzionale. Secondo la consigliera Santina Lovotico si sarebbe violato l'articolo 36 della costituzione. Il presidente Craceffa ha sostanzialmente confermato quanto affermato nelle settimane passate a nome dell'ordine professionale che rappresenta non si possono affidare incarico a titolo gratuito a due professionisti creando tra l'altro un pericoloso precedente imitabile anche da altri comuni. La maggioranza con in testa il sindaco Luigi Bonelli hanno difeso il provvedimento il primo cittadino ha ricordato i suoi trascorsi da assessore ai servizi sociali e dell'assunzione effettuata alla fine degli anni 90 e dopo il trasferimento della neoassunta in un altro comune ha sottolineato come le altre amministrazioni dopo quella la via non hanno mai ottemperato l'esigenza di assumere un assistente sociale e solo sotto la sua sindacatura questo è avvenuto nuovamente già lo scorso anno con un altro incarico temporaneo a titolo gratuito. Il comune di Nicosia è capofila del distretto sanitario di 23 ed è stato diffidato dal tribunale dei minori di Caltanissetta ad assumere immediatamente questa figura professionale configurando nel caso specifico il reato di omissione datti d'ufficio. Al momento non esistono le disponibilità economiche il bilancio di previsione non è stato ancora approvato e l'unica strada per ottemperare la diffida del tribunale dei minori è stata quella di affidare l'incarico temporaneo a titolo gratuito. Non appena il documento contabile sarà approvato ci saranno le risorse e le disponibilità per poter pagare gli assistenti sociali. Il vice sindaco ha letto anche una sentenza della Corte dei Conti attraverso la quale si rende ammissibile il ricorso ad incarichi gratuiti nel momento in cui mancano le risorse economiche al comune e l'incarico va comunque assegnato per il bene della comunità. Il sindaco ha tentato di trovare una soluzione insieme al presidente Graceffa anche con le proposte di altri consiglieri che hanno chiesto quantomeno di poter aprire una posizione assicurativa nei confronti dei due incaricati. Il primo cittadino ha più volte ribadito di prendersi tutte le responsabilità del caso e di non voler tornare indietro sulla sua scelta in quanto si tratta di una figura indispensabile per i servizi sociali del comune di Nicosia. Alla fine della discussione il consiglio di Gianfranco Castrogiovanni ha sollevato una pregiudiziale sul voto finale sull'atto di indirizzo presentato dalla minoranza sostanzialmente il consiglio comunale non avrebbe competenza su questo argomento in quanto si tratta di una determina sindacale e solo il primo cittadino avrebbe la competenza per il ritiro in autotutela. La pregiudiziale è stata contestata dalla minoranza in quanto il loro è un atto di indirizzo ovvero un consiglio che viene dato al sindaco per il ritiro di un provvedimento e non un'imposizione. La pregiudiziale del consigliere Castrogiovanni è stata accolta dall'intera maggioranza presente in aula mentre hanno votato contro i cinque componenti della minoranza si sono assenuti consiglieri Luciano Spedale e Graziella Trovato.